Un'intera famiglia è stata arrestata a Gallipoli con l'accusa di tentata estorsione dalla polizia che ha eseguito all'alba quattro ordinanze di custodia cautelare, due delle quali ai domiciliari. Le persone arrestate sono coinvolte nell'inchiesta della Procura di Lecce nell'ambito del sequestro del mercato ittico di Gallipoli avvenuto lo scorso 26 luglio in seguito alla scoperta di postazioni utilizzate abusivamente in un clima di tensione e intimidazione all'interno del mercato. In carcere sono finiti Luigi e Fabrizio Sabato, rispettivamente padre e figlio mentre per la sorella Maria Rosaria e la madre Rosaria Scialpi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Luigi Sabato deve rispondere anche dell'incendio di un furgone ortofrutticolo avvenuto in pieno centro a Gallipoli lo scorso 28 luglio di proprietà di uno degli 11 indagati nell'inchiesta, Francesco Bellis, marito di una consigliera comunale in carica.